Segui La7 anche su Instagram, La7 ovunque con te. Ultima cosa, un odio anti-ebraico tremendo, anche nei termini che tu usi, gravissimo, gravissimo, gravissimo. Si dà la stura nello spazio pubblico, dai la stura a un odio anti-ebraico vergognoso, come quello che c'è stato nella manifestazione. Con gli altri ospiti vedremo perché è importante tenere in questo momento. Per me è importante tenere il punto assolutamente. Sevi De Cildrenagazza, un bambino morto ogni dieci minuti. Ma io questo l'ho detto! Sto parlando un po' di educazione. A Gaza un bambino ucciso ogni dieci minuti. Dichiarazione del presidente Lula, di sinistra, un tempo anche sostenuto dalla professoressa. Non si tratta di discutere su chi ha ragione e chi torto, su chi ha dato il primo colpo e chi il secondo. Il problema è che non è una guerra, è un genocidio che non ha ucciso. Tu sai, prendi le parti, demonisci, demonisci, demonisci. Non sono vittime innocenti. Se uno non può replicare, evidentemente non avete importanti argomentazioni se non fate parlare. Come no? Fate una brutta figura. L'ultima cosa, mi meraviglia la professoressa che di fronte ad una strage oggi in un campo profumo di 400 persone stia citando un ragazzo che ha strappato la bambiera di Israele. Di fronte a 8.000 morti la professoressa parla di una bambiera strappata. Abbassiamo, 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 si vergogni. Allora, non vergognatevi. E delegittimi, e delegittimi, e delegittimi, e delegittimi l'esistenza è vera. Laura Gombetti, allora abbassiamo lo studio.